da triplice fischio dell'arbitro ed escono meritatamente vittoriosi dopo una grande partita hanno dimostrato personalità, impegno e sicurezza oggi che partita si è giocata oggi Luca? il segreto è stato tenere la linea difensiva sempre molto alta l'hanno fatto alla perfezione bloccando sul nascere tutte le azioni degli avversari poi sono stati bravi a ripartire in modo omicidiale siamo ai saluti finali un ringraziamento a Luca Marchegiani come sempre a mio fianco un onore per me saluto e ringrazio il pubblico da casa ciao